un pomeriggio a tutti io sono valeria saggiamo insegno cooperazione allo sviluppo all'Università all'Orientale di Napoli e con Laura Fantini ho il piacere e l'onore di coordinare il gruppo tematico del live valutare nella cooperazione allo sviluppo che è un gruppo che si è raccolto attorno all'esigenza di dare voce ad un dibattito sulla valutazione nella cooperazione allo sviluppo nel sistema italiano e che intende crescere e crescerà sicuramente anche grazie al contributo dei partecipanti a questo panel che spero che sia l'inizio ecco di un lungo discorso quindi cedo la parola a Laura sì ancora non mi conosce sono Laura Fantini ho lavorato per molti anni lavoro ancora nella cooperazione allo sviluppo e sia con il cappello di chi disegna e gestisce progetti e poi una seconda fase della mia carriera professionale anche di chi valuta come diceva Valeria questa l'organizzazione di questo panel all'interno del congresso AIVE è una delle attività che il nuovo gruppo tematico valutare nella cooperazione allo sviluppo ha intrapreso siamo giovani ancora nel senso che non abbiamo neanche quasi un anno come gruppo tematico però sono già molte le attività che abbiamo portato avanti e nasce il gruppo tematico come diceva Valeria da un'esigenza che già sentivamo da tanto tempo se ne è discusso molto con alcuni dei presenti nell'ambito del laboratorio di valutazione democratica mancava nel live questa presenza della tema della cooperazione allo sviluppo che è molto caro alla valutazione in quanto a livello internazionale il dibattito la presenza nei network la presenza delle conferenze internazionali della valutazione nello sviluppo è preponderante per cui avere un gruppo tematico all'interno del live che si occupa di questo a nostro parere è una grossa opportunità per portare anche la voce internazionale quindi quello che si muove nel dibattito internazionale nel dibattito italiano e quindi riuscire a dare un contributo alla voce italiana quindi alla cultura italiana della valutazione e in questo senso il gruppo tematico quindi all'obiettivo quindi non solo di diffusione ma anche di autoformazione sono vari gli eventi formativi che abbiamo già fatto tra noi o anche all'interno dei seminari del live la ricerca che menzionava valeria e che sentiremo oggi è anche un pezzo delle nostre attività a tentare di capire quali sono le pratiche le conoscenze che le organizzazioni della società civile hanno in tema di valutazione ci sembrava cruciale ed è per questo che nel titolo di questo panel c'è la parola pratiche e siamo felicissimi dei contributi che abbiamo ricevuto perché pratiche è proprio la parola che forse è il mainstream delle presentazioni che faremo oggi il panel è molto variegato a più voci diverse due importantissime testimonianze di due ong che sono nel panorama italiano di grosso rilievo quindi avsi e il cisp ce ne parleranno i nostri relatori e relatrici e ci traghetteranno all'interno di quelle che sono le loro pratiche innovative di quelle che sono le riflessioni che ne sono che le accompagnano in cui a mio avviso c'è un comune denominatore quindi la centralità di un apprendimento un apprendimento non solo per la programmazione ma anche per l'organizzazione e un apprendimento che come in vario modo dite in entrambe le vostre relazioni si adatta caso per caso si adatta all'esperienza e quindi una grossa un grosso sforzo di valorizzazione del capitale umano interno alle organizzazioni e seguirà alla presentazione dei risultati preliminari di questa ricerca che il gt sta portando avanti ehm tramite i nostri colleghi avremo una presentazione a più voci eh sono risultati preliminari che ci interessava però condividere con voi anche per avere i vostri input e infine che ovviamente è un last but not least eh la voce istituzionale non poteva mancare quindi ringraziamo ufficialmente Francesco Capecchi capo ufficio terzo della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del nostro MAECI eh che ha eh accolto con entusiasmo il nostro invito e che ci ehm parlerà un po' di quella che è la valutazione da un profilo più istituzionale quindi come avviene la programmazione come vengono recepite le valutazioni e il nostro disgusto tanto di eccezione che darà ovviamente un valore aggiunto a tutta la nostra conversazione e Massimo Tommasoli che abbiamo già avuto l'onore di avere in alcuni dei nostri incontri eh a cui diamo un caloroso benvenuto e Massimo è attualmente responsabile della Global Programma e Permanent Observer dell'International Idea e non sto qui Massimo a raccontare tutto il tuo lunghissimo curriculum ma ma sicuramente eh siamo ehm saremo con le orecchie bene aperte su quello che avrai da dirci eh come feedback sulle sulle nostre presentazioni e anche su come andare avanti con il lavoro del nostro gruppo tematico soltanto due infologistiche abbiamo il panel è ricco eh quindi abbiamo quindici minuti a presentazione e pregherei tutti di restare in questi quindici minuti abbiamo ehm deciso di dare modo almeno a una domanda puntuale dopo ogni presentazione e mh è una risposta breve da parte del dello speaker e poi conservare le domande che che abbiamo per il momento finale di discussione e come sapete eh ci ha detto live di ricordarvi che la registrazione eh se non volete apparire nelle registrazioni che verranno poi pubblicate sul sito Hive dovete spegnere il vostro video altrimenti insomma siamo tutti d'accordo che che per la nostra privacy non è un problema quindi io mi taccio subito per non rubare altro tempo alle presentazioni facciamo una piccolissima modifica del programma mh e vorrei iniziare con le pratiche delle delle due ONG ospiti quindi darei la parola a Bruno Baroni e a Dalia Tondini per la loro presentazione sulle pratiche all'interno di Abzi. Grazie. Salve a tutti buongiorno sono Dania Tondini di Abzi e mh do l'avvio a questa presentazione a quattro mani a due voci che abbiamo preparato con Bruno Baroni. Io sono responsabile all'interno di Abzi del dipartimento learning and sharing di cui poi dirò nella mia parte di presentazione. Abzi è una ONG italiana che ha quasi 50 anni non è eh caratterizzata per lavorare in un settore in particolare lavoriamo in tanti paesi proprio perché la caratteristica della nostra organizzazione è sempre stata quella di farsi guidare dalla realtà e questo facciamo anche nella valutazione con lo stesso spirito e questa così questo approccio questa modalità abbiamo voluto stiamo cercando di rifletterlo anche nella terminologia che usiamo come poi Bruno vi illustrerà. L'intervento di oggi è organizzato in questo modo eh nella prima parte Bruno che lavora ehm in Africa come poi spiegherà parlerà di come Abzi considera e realizza la valutazione e tutte le attività che insomma la valutazione sono collegate. Mentre io spiegherò come questa modalità si inquadra nella vita dell'organizzazione e come questa modalità che cerchiamo di portare avanti contribuisce al bene comune. Do la parola a Bruno proprio perché per noi l'attività sul campo è la l'aspetto più importante di tutto. E saluto Francesco Capecchi con cui collaboriamo al comitato consultivo valutazione e Bruno Abduioni. Grazie Dania. Buon pomeriggio a tutti. Un secondo giusto per ringraziare naturalmente per l'invito a questo congresso e per ringraziare il lavoro del live e aver dato in particolare aver dato vita a questo eh gruppo di lavoro eh valutare nella cooperazione e lo sviluppo e eh ringraziamo eh diciamo il gruppo di lavoro e le coordinatrice in prima di tutto in primis Laura e Valeria per questo lavoro che fra poco presenteranno ehm che eh fa lo fa un po' il punto a uno studio empirico eh sullo stato della valutazione tra le ONG eh in in Italia ed è lo salutiamo e lo ringraziamo questo lavoro insomma diciamo vale la pena spendere appunto ringraziare e dire che è una cosa importante perché come ha il gruppo di lavoro è un'interlocuzione con gli operatori dello sviluppo con le ONG e quindi da fare per realizzare quel ponte tra accademia e operatori eh di cui abbiamo già parlato stamattina o prima negli altri interventi di quanto sia importante questo connubio e passando alla presentazione ehm allora io vi descriverò diciamo un po' a grandi linee l'approccio di AVSIA alla valutazione e riscriverò alcune pratiche in particolare una che è semplificativa che chiamiamo pratica del cambiamento da cui la parola pratica è così importante e mh il per quanto riguarda l'approccio sarei tentato di utilizzare eh di dire di qualificare l'approccio di AVSIA alla valutazione come pluralista eh prima di tutto per una questione pragmatica nel senso che AVSIA comunque è un ONG di 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 un certo ehm diciamo diciamo una certa dimensione eh e per cui segue per esempio annualmente duecentocinquanta progetti in più di trenta paesi questo significa che mh diciamo sarebbe comunque difficilissimo pensare di avere un un unico approccio alla valutazione ma in realtà non è soltanto una questione di pragmatismo è anche una questione di scelta e per essere sicure di riflettere i diversi contesti per secondare ma anche nutrire il protagonismo dei nostri colleghi sul terreno eh che sono tra le persone e tra i beneficiari pensiamo che sia utile mantenere una certa flessibilità e un approccio quindi plurale alla valutazione e e questo mh diciamo mi permette di fare due o tre notazioni che secondo me sono importanti eh dato che comunque oggi comunque parleremo dello stato della valutazione tra le ONG eh da una parte eh diciamo c'è da fare molta attenzione no nel cercare di distinguere tra eh una pluralità che è in realtà il risultato di dei processi molto estemporanei eh rispetto invece a una pluralità che è invece una scelta consapevole eh alla valutazione eh le due cose che naturalmente possono appunto assomigliarsi o possono essere scambiate l'una per l'altra invece è molto importante eh diciamo fare distinguere queste due eh queste due cose eh la seconda eh parlando proprio più prioramente di AVSI abbiamo notato insomma che c'è anche una dinamica interna importante cioè non solo c'è una pluralità ma poi eh c'è una dinamica di apprendimento di evoluzione per cui all'inizio effettivamente AVSI è andata in tante direzioni molto diverse e adesso per esempio è una fase un po' più di consolidamento e di riflessione e quindi di riorientamento dei dei propri approcci e questa dinamica eh è un altro aspetto importante eh da tenere in considerazione da notare in particolare che si tratta di una dinamica un po' a zig zag o diciamo unbalanced per usare altri termini e non invece una dinamica lineare che assomiglia molto a quell'idea di di formazione centrata diciamo in cui chi eh impara attraverso un processo lineare apprende per lasciare più connessione e la finalmente la terza notazione è che di fatto al di là di eh del tentativo di applicare delle forme ideal tipo di valutazione poi nella pratica ci sono si realizzano delle forme ibride eh perché i contesti non permettono mai per un motivo per un altro perché le risorse non sono sufficienti o perché per come si svolgono poi la valutazione nella pratica di di mettere in pratica appunto un'idea al tipo in realtà si tratta spesso di soluzioni ibride e quindi diciamo che aumentano questa pluralismo di approcci nella pratica e passando alla parola pratica che chiaramente è quella più utilizzata del mio intervento e diciamo che come idea al tipo mh come idea al tipo come tipo come caratteristico insomma dell'approccio di AFSI eh parlerò della pratica del del cambiamento ciò detto AFSI come dicevo utilizza diciamo è impiegata è coinvolta in tutti i tipi di valutazione valutazioni realizzate internamente dal personale eh di AFSI esternamente da personale contrattato e in alcuni casi valutazione realizzata dallo stesso donatore e sono tre situazioni totalmente diverse eh eh notiamo che appunto quello che dicevo è che con l'avanzo con diciamo accumulare accumulando esperienza e accumulando anche risorse sul tema della valutazione abbiamo in AFSI ha sentito sempre più la necessità di porre l'accento sulla formazione sull'apprendimento e anche riuscire a identificare ehm diciamo elementi concreti da eh da sottolineare al policy maker o decision maker eh elementi che hanno diciamo che possiamo riassumere con la notazione di come realizzare le eh i progetti. Ehm dicevo che un esempio è eh questo che chiamiamo pratica del cambiamento eh naturalmente l'ammiccamento è a distinguerlo rispetto alla teoria del cambiamento ed è eh diciamo per eh è una pratica che si centra sulla sulle implementazioni quindi sull'apprendimento che nasce dal fare eh sulla conoscenza che genera lo scambio tra le persone e il protagonismo che nasce dal mettersi in gioco in assieme. Questi sono naturalmente sono molto in linea con la visione e la missione di AFSI e di cui Dania probabilmente dirà qualcosa di più e quello che io qui voglio sottolineare è che ehm eh diciamo questa pratica o eh anche altri aspetti per esempio è una pratica partecipativa basata sull'osservazione diretta di chi è coinvolto in prima linea eh nei progetti e ingloba quindi una conoscenza locale e ehm e che una conoscenza che che emerge nel diciamo man mano sulla base della dell'implementazione dicevo prima ed è una pratica che si realizza durante il progetto eh ed è una pratica sostanzialmente orale prima di tutto eh che poi diciamo attraverso riesce ad identificare delle dei cambiamenti che sono a anegdotici e che poi possono tradursi in un questionario eh per ottenere dell'informazione più quantitativa. Eh il punto che vorrei sottolineare per chiudere è un po' eh questo tipo di pratica nasce dalla situazione concreta in cui gli staff eh sono immersi nella loro attività. Eh il fatto che nei nei fatti in un posto io ho molta esperienza in Sud Sudan vi potete immaginare come la comunicazione orale sia centrale eh come la riflessione sia basata sull'osservazione diretta, i tempi siano molto stretti e allo stesso tempo è molto difficile tenere in considerazione informazione secondaria o più qualitativa eh utilizzando prassi eh e pratiche più ortodosse. Invece questa pratica del cambiamento eh appunto immersa nella realtà di come delle capacità eh dei team che si occupano di valutazione ci sembra a eh diciamo rispondere meglio a a permettere l'inclusione di tutti o dei processi di apprendimento e ehm in qualche modo tutto ciò è in linea con una visione parsimoniosa eh offrendo le parola di Judith Hendler che commenta Hirschman eh definendo quale potrebbe essere un tipo di pianificazione utile a chi ha il doppio compito di fare valutazione ma anche di imparare a fare valutazione nel frattempo eh e poi ed è molto coerente anche in linea con l'idea della la teoria dell'apprendimento centrato su chi impara sulle caratteristiche, la realtà di chi impara e non del formatore eh a cui eh tanta letteratura si ispira e ehm citiamo anche Ellermann eh per terminare. Dania. Ecco quindi per Avsi si capisce come tra l'altro nei suoi punti chiave la centralità della persona è un punto essenziale. La persona è il vero patrimonio, la persona delle persone con cui lavoriamo, dei nostri staff, delle dei cosiddetti beneficiari per cui ancora non riusciamo a trovare una parola più più realistica ma anche le persone dei vari stakeholder con cui abbiamo a che fare primi tra tutti le autorità locali ma le istituzioni e mh vediamo che c'è stato però nel tempo uno sbilanciamento della dell'importanza data alle risorse materiali rispetto alle risorse diciamo quello che nell'introduzione si diceva capitale umano e anche parlando di risorse mh le tante risorse che vengono spese per il controllo delle attività appunto in questa nostra impostazione noi eh vorremmo usarle al massimo che mh per migliorare l'attività verso i nostri beneficiari cioè vorremmo che le risorse anche le risorse spese per il controllo siano spese bene per il vantaggio dei nostri beneficiari sia per la nostra azione diretta sia per ehm massimizzare quello che noi nella azione diretta prendiamo e trasformarlo quindi in contributo alle dinamiche di policy making e quindi quello che sinteticamente nel titolo dell'intervento abbiamo definito advocacy abbiamo eh parlato proprio delle valutazioni come ponte tra il field e l'advocacy serve un cambio di mentalità il cambio di mentalità che porta allo sviluppo tante volte è difficile da misurare proprio questo come ma è l'unica cosa che serve quindi serve valutare processi non solo risultati vediamo che l'accademia e la politica stanno cominciando a intuire queste cose serve il coraggio di dare indicazione anche alla tecnica di sviluppare strumenti e metodologie che possano riuscire a dare ragione di questo perché eh appunto lo sviluppo è qualcosa che mh eh non è un automatismo proprio perché ha a che fare con le persone. Avsi dicevamo una learning organization cioè cerchiamo di lavorare appunto in questa modalità di scambio continuo e di costruzione di una mentalità comune per questo avsi ha scelto di ehm istituire il dipartimento learning and sharing che io coordino che ha proprio lo scopo di aiutare eh i colleghi a conoscere reciprocamente le buone pratiche non ho una presentazione presentazione inteso in senso lato non non ho una presentazione quindi dicevo ehm per appunto migliorare l'attività distinguere i fattori di originalità creare evidenze e distillare raccomandazioni per il policy making avsi non è un'organizzazione di advocacy ma fa advocacy nel momento in cui quello che impara dalla propria esperienza lo mette a disposizione dei decisori perché possa quello che viene creato come politiche come programmi possano essere più utili alle persone che cerchiamo di aiutare il fatto di non avere modelli nella valutazione nelle delle esperienze di learning e non sentiamo io non sento la realtà da casi progetti a chiedere di concludere perché eh perché abbiamo concluso i quindici minuti grazie assolutamente e quindi per eh eh concludere la l'invito eh e quello che cerchiamo di fare realtà con cui collaboriamo è di non avere paura della realmente favorendo il protagonismo delle persone e eh alla valutazione chiediamo di cogliere il cuore dell'azione i fattori di successo reali perché questo possa essere lo ripeto ancora una volta più utile possibile alle persone eh con cui lavoriamo grazie grazie mille a Bruno e Dania Dania forse abbiamo perso qualche parola del della del tuo ultimo eh dello stra dell'ultima parte dell'intervento ma abbiamo compreso benissimo mh il pensiero e volevo chiedere se c'è una domanda diretta e veloce da da parte dei nostri partecipanti a a Bruno e Dania per il momento e poi possiamo farlo anche a fine sessione se c'è qualcuno che ha una curiosità non lo so forse per rompere il ghiaccio io ne avrei una e allora intanto pongo la mia volevo chiedere una nel vostro paper emergeva molto forte questa centralità del capitale umano come hai detto anche tu Dania come ha detto Bruno quindi sia dei beneficiari che sono d'accordo proviamo a cercare un altro termine e ehm degli operatori di sviluppo ehm come operatrice anche eh visto il numero dei progetti che voi avete in corso contemporaneamente mh come riuscite a coniugare questo apprendere dalle persone con purtroppo il turnover e il precariato che eh è tipico del nostro settore quindi con persone che probabilmente gestiscono un progetto sono contrattate sul progetto e poi magari sul seguito o su un secondo progetto simile non non lo possono essere più allora velocissimamente questo è un problema con il quale ci siamo scontrati ad esempio nella realizzazione del bilancio sociale che ho curato per avsi perché appunto ehm essendo diciamo riferito all'anno precedente questo problema si è presentato diciamo che quello che cerchiamo di fare è di avere dei momenti di condivisione eh tra tutte le persone che operano nei progetti ehm in modo che quell'apprendimento almeno quello più consolidato quello più profondo diciamo delle attività possa essere condiviso e quindi questo è già un modo perché diventi patrimonio di tutti ehm questo come diciamo linea ehm generale dell'organizzazione Bruno penso che tu possa aggiungere qualcosa anche a livello della del terreno mi veniva in mente soltanto per essere molto rapido che infatti nel bilancio sociale ci sono proprio delle sono sono state richieste non soltanto dei dati quantitativi ma anche delle riflessioni di ogni singolo project manager 250 project manager che riflettono su qual è stato il dato più significativo raggiunto e altre considerazioni di questo tipo come è stata valorizzata la dignità del delle persone e è un tentativo che va proprio in quella direzione è lì di trovare tutti i modi per comunque condividere eh certe esperienze e provarle e far evitare che appunto si perdano poi con con le singole persone grazie mille chiaro ehm vedo che c'è un'altra domanda da parte di Andrea chiederei di di lasciarla per la discussione finale per non prendere tempo eh e lasciare anche il tempo a tutti gli altri relatori quindi passerei subito la parola a Maura Viezzoli che ci presenterà eh delle riflessioni anche lei sull'adattamento quindi adattamento è una parola chiave credo eh nel suo intervento quindi Maura a te la parola grazie Bruno e Dania sì grazie eh grazie a tutti io ho una eh presentazione che userò come traccia ma insomma non non utilizzerò completamente adesso proverò a condividere lo schermo ecco qua ehm ma allora io non so forse non tutti mi conoscono io sono Maura Viezzoli sono da tanti anni questo mondo della cooperazione e mi occupo diciamo di monitoraggio e valutazione anche così come docente di vari master e lavoro da tanti anni insomma nella nel nel CISP che è appunto una delle organizzazioni internazionali devo dire abbastanza simile ad AVSI anche dalla loro riscrizione e anche perché conosco eh li conosco insomma nel senso che anche noi siamo un'organizzazione che non ha un focus settoriale ma che basa la propria azione sulla conoscenza approfondita del contesto in cui opera e quindi dal dialogo con i partner locali poi nascono i progetti e le priorità che vengono identificate ehm il mio intervento di oggi eh in verità diciamo prende il tema della eh diciamo dell'adattamento da un altro vertice e cioè eh dal vertice della ehm non tanto delle pratiche che scusate che cerco di ok eh non tanto delle pratiche non tanto della pratica del CISP che sarà commento diciamo di quello che dico quanto da una eh preoccupazione non ansiosa ma insomma da una preoccupazione legata al fatto che eh la cooperazione italiana ehm a seguito di un percorso eh diciamo che virtuoso no che qui ho eh menzionato non vado evidentemente attraverso tutti i passaggi eh ma attraverso un percorso virtuoso che parte dalla legge attraverso eh la peer review il piano efficacia eccetera arriva alla eh applicazione della results based management nell'ultima eh call eh delle OSC e ehm senza però eh va detto un vero dibattito di che cosa poi questo voglia dire in termini di cambiamento dell'approccio della cooperazione italiana rispetto ai progetti allora a me sembra è molto importante eh mi è sembrato insomma importante ehm fare diciamo delle riflessioni del tutto aperte che non sono in alcun modo come dire una posizione tra virgolette politica di qualche tipo ma sono eh soltanto un come dire una sorta di aiuto di di riflessioni per il dibattito eh perché poi nella conclusione della l'ultima slide io dirò che il dibattito però ci deve essere cioè ci dovrebbe ci deve essere un dibattito per ehm come dire capire che cosa vuol dire l'applicazione del results based management e quali sono le le condizioni per una sua piena valorizzazione ehm allora il eh un un aspetto che a me è sembrato diciamo nel preparare anche questo paper poi nel preparare i paper non so se a voi succede ma a me succede che uno impara sempre no perché si metti lì a studiare a fare eccetera ehm un aspetto che mi è sembrato estremamente interessante ehm diciamo sul tema sulla la questione dell'approccio adattivo no dei progetti è che tutta la ehm a partire dalla consapevolezza nuova nella mondo internazionale diciamo a seguito dell'agenda duemilatrenta del fatto che lo sviluppo adesso la faccio naturalmente corta che lo sviluppo è complesso che i contesti locali eh sono fondamentali che gli stakeholder devono essere protagonisti eccetera eh si dà più importanza alla valutazione per i risultati ma si dà anche molta più importanza alla come dire alla possibilità di modificare il progetto e il corso d'opera no quindi non dobbiamo più avere in teoria una gabbia rigida seguire una serie di passaggi per arrivare in fondo e in fondo eh valutare l'impatto diciamo così ma al contrario dobbiamo rafforzare invece tutto ciò che quelli che sono i processi di cui anche gli amici colleghi di AVE si parlavano cioè tutto il processo in corso d'opera cioè nel corso dell'implementazione del progetto ok allora a me è sembrato molto interessante il fatto che nella ehm critiche che eh nell'analisi diciamo che Oxedac fa eh su ehm l'applicazione del results based management eh c'è stata una survey recentemente no su come i donatori applicano la risalve e il management e eh qui ho elencato diciamo eh le le analisi che diciamo le valutazioni le analisi che sono state fatte no? E una delle critiche è che il quadro logico e il TOR è applicato in maniera rigida che sia il contesto si analizza solo in premessa cioè nel disegno del progetto non in corso d'opera che gli adempimenti burocratici sono ancora il focus della gestione del progetto ehm mentre dall'altra parte come invito c'è quello di di valorizzare gli strumenti a sostegno nel monitoraggio e valutazione basato sull'evidenza e mettere in piedi strumenti rigorosi per avere informazioni e adattare il progetto in corso d'opera. Allora a me sembra che queste indicazioni di paesi che sono già avanti no? Nell'applicazione da diversi anni sarebbero preziose per la cooperazione italiana cioè per prenderle seriamente in considerazione ehm come dire e ragionarci sopra ok? Perché credo che la cooperazione italiana si trovi un po' in un momento di passaggio cioè tra una vecchia applicazione diciamo così del quadro logico no? Come era fino a pochi mesi fa e questo nuovo questo cambiamento eh importante verso il result management di cui però secondo me non si è colta ancora spero che lo si farà l'aspetto adattivo che è connaturato al result management cioè in tutti i documenti che eh diciamo tutti ne conosciamo in realtà l'aspetto adattivo è una è è fondamentale dell'RBM ok? Allora a me a me pare che eh quello che noi ONG potremmo fare no? È a parte proporre diciamo un tavolo di ragionamento su queste questioni ehm è metta in evidenza che eh no la adaptive management non vuol dire elasticità del progetto no? Ma vuol dire trovare degli strumenti come anche i colleghi dicevano prima che possano da una parte validare le pratiche informali che le ONG fanno storicamente sul campo no? Eh esattamente quelle di cui parlava Bruno che menzionava Bruno ma dall'altra parte anche attivare forme di ehm eh di coinvolgimento di soggetti come le università, i centri di ricerca, gli esperti che possano aiutarci a trovare degli strumenti come come dire più oggettivi in qualche modo più scientifici no? Per validare ciò che noi verifichiamo sul campo ok? Però premessa per tutto questo è che uno nell'applicazione del risalve il management la cooperazione italiana eh riconosca l'importanza di una gestione adattiva due che si capisca che l'applicazione rinforzo del monitoraggio e valutazione per il learning dopodiché è chiaro che c'è anche il mil c'è monitoraggio e valutazione in chiave accountability ma io ho voluto lasciare learning perché mi sembrava come dire che in questo contesto fosse più adatto ehm quindi diciamo l'importanza di dare come dire più spazio al tema dell'implementazione degli interventi di dare più spazio e più tempo anche alla monitoraggio e valutazione per il learning eh e come dire considerando il monitoraggio e valutazione per l'apprendimento un po' come un passaggio tra l'informale e l'informale come da alcuni autori viene infatti considerato e cioè uno una modalità per dare tra virgolette dignità scientifica a quello che gli stakeholder ci raccontano sul campo in diversissimi modi no? Che è poi come dire la verità di quello che succede sul campo no? Sullo sviluppo cioè quello è lo sviluppo ok? Specialmente quando noi parliamo di progetti che hanno a che fare col cambiamento delle norme sociali che hanno a che fare con la disseminazione di pratiche nuove quando parliamo di progetti che hanno a che fare con la cultura eccetera eccetera no? Ok quindi è chiaro che lì il contatto diretto con i processi che avvengono è assolutamente fondamentale per la valutazione di quello che sta accadendo ok? Però è vero va riconosciuto che spesso come dire eh sembrano un po' delle valutazioni carattere soggettivo no? Sembrano come opinioni voci allora ci sono delle metodologie che possono aiutarci a trasformare no? queste ehm pratiche informali in qualche cosa di più evidence based diciamo così no? Più evidente ehm c'è poi una eh non so quanti quanti minuti c'ho so già ho già finito ok perfetto allora ehm chiudo scusate eh per dire questo che il eh questo tutto questo secondo il mio punto di vista deve eh considerare e nella letteratura che ho visto è considerato pochissimo il fatto che la il monitoraggio e la valutazione non deve inficiare la ownership cioè se tu metti delle come dire se tu metti insieme delle pratiche troppo complesse o complicate è evidente che si allontana chi fa valutazione da chi poi eh è il partner beneficiario lo stakeholder del progetto quindi va fatta un'operazione di rafforzamento delle competenze degli operatori di rafforzamento delle competenze dei partner locali che devono essere in qualche modo empowered ma anche deve esserci una specie di ownership della valutazione perché altrimenti è una valutazione su qualcosa e non con invece eh e non con no eh anche se si tratta di valutazioni esterne questo non vuol dire esterno non vuol dire distaccato no esterno vuol dire scientificamente valido ma non vuol dire distaccato o separato ehm per terminare vorrei dire questo che tutto questo è molto bello eh ma se non la cooperazione italiana non prende coscienza di questo non lo attua e quindi concretamente nell'ambito dei nostri budget adesso per essere proprio banali banali non considera che deve aumentare la quantità di risorse per il monitoraggio e la valutazione e la valutazione e come dire apre una discussione su come è possibile eh mainstream il monitoraggio e valutazione per il learning all'interno dell'implementazione del progetto noi ci ritroveremo con una gabbia che è la eh uguale a quella del quadro logico cioè non c'è sostanzialmente differenza tra i due strumenti ehm quindi ehm ho concluso se poi ci sono vabbè dopodiché vabbè volevo dire tante altre cose ma insomma non guarda in realtà è ancora due tre minuti se vuoi ah ok perfetto allora dal punto di vista del CISP o per adesso per andare un po' più su quello che insomma eh forse volevate un po' più di pratica del CISP eh in realtà dal nostro punto di vista quello che noi abbiamo visto che è una cosa che è fondamentale proprio per avvicinare da un punto di vista organizzativo chi fa valutazione monitoraggio con chi con i progetti è quello di aprire presso eh i paesi no anche noi siamo in circa trenta paesi di aprire presso i paesi eh dei mil ehm focal points o o uffici che di modo che attraverso la formazione degli operatori locali che sono loro direttamente anche per il poi conoscono le lingue no? Specie eh diciamo in certi posti non basta l'inglese naturalmente nello sua ili no? Servono le lingue locali quindi eh attraverso un rafforzamento delle competenze e otteniamo più eh come dire più ownership ma otteniamo anche più capacità e competenza rispetto all'utilizzazione di determinati strumenti e questo diciamo come CISP noi l'abbiamo fatto anche attraverso un'alleanza molto stretta con le università italiane e in alcuni paesi dove lavoriamo aprendo anche dei master in cooperazione internazionale e facendo dei progetti di ricerca valutativa con una eh partenariato di più università e più organizzazioni non governative e secondo me questo in riferimento a quello di cui si diceva stamattina è veramente una linea estremamente importante secondo noi per sviluppare le competenze locali perché le competenze locali vanno sviluppate su due livelli cioè sia formare le persone e quindi decisori ma anche cambiare eh il sistema che regola eh la cooperazione quindi se non inserisci il tema valutazione e monitoraggio all'interno del sistema della del dello sviluppo locale eh hai hai fatto poco ecco basta grazie Mamra sei stata veramente esaustiva e sei andata dritta al punto che il cuore della tua presentazione di bellissimo l'adattamento però eh come coniugare appunto la pratica del terreno con tutta la l'impianto burocratico e anche cambiando i label quindi prima quadrologico poi teoria del cambiamento poi il risultato è lo stesso se se ci sono delle gabbie quindi grazie per essere stata così chiara e sicuramente questi input saranno poi per il dottor Capecchi eh uno spunto eh durante la sua presentazione vorrei lasciare spazio a una domanda da parte del dei partecipanti se ce ne sono per Maura o anche Valeria nel frattempo poi anche ehm diciamo sì sì certo sì 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 interrompe la ok grazie c'è qualcuno che vuole intervenire a una curiosità su quello che Maura ci ha appena illustrato io io sì se posso non vorrei monopolizzare il il floor però se non c'è nessun altro avete comunque la possibilità di di scrivere in chat la vostra domanda dunque Maura eh intanto grazie per questa orientazione molto densa eh che mi fa venire in mente diciamo due 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 aspetti eh diciamo due nodi forse da sciogliere per ehm eh diciamo attuare questo percorso che hai descritto mh uno e questi due nodi forse sono legati tra di loro uno è il superamento della logica del bando mh il bando è visto come uno strumento che non facilita la costruzione di una programmazione di lungo periodo che forse intacca anche la fiducia con i partner locali perché diciamo ehm un discorso di lungo periodo non è garantito attraverso la logica del bando il bando si può vincere si può perdere e e quindi eh non dà continuità necessariamente ad una programmazione e questo va contro tutto quel tutto quello che tu hai detto e naturalmente lancio al al dottor Capecchi questa questa picco questo piccolo input ehm quindi per questa cosa forse occorrerebbe discutere sicuramente con i donatori eh insomma se è un'esigenza eh forte da parte delle oste. Il secondo nodo è rappresentato dalla missione che tu molto francamente fai nella tua relazione e che io ho apprezzato molto mh che eh diciamo sul monitor sul mail su il come la volete eh chiamare non è tanto il lato monitoring and evaluation sul quale c'è sicuramente una lunghissima esperienza quindi di quello quanto il learning ecco l'aspetto del learning mi sembra eh che sia eh a volte problematico tu stesso ammetti che non sempre le valutazioni vengono utilizzate eh quindi la mia domanda è questa perché la valutazione è poco usata eh quindi come come si fa a rafforzare l'aspetto del learning oltre la componente di formazione delle controparti locali che tu hai citato ma proprio internamente all'organizzazione come si fa a a rafforzare il learning? Allora eh dunque rispondo comincio dall'ultima eh sì allora come si fa ehm adesso ci ci riflettono un secondo diciamo la risposta sul perché non funziona perché non servono i dati che vengono raccolti troppo tardi nel momento in cui tu le cose le hai già fatte servono soltanto per eh validare quello che hai fatto oppure per dimostrare al donatore che hai raccolti i dati ma insomma molto spesso diciamo le valutazioni vengono fatte eh per motivi appunto di di risposta burocratica al donatore eh oppure per riflettere in generale su tematiche di carattere generale che questo sì ecco siamo più avanti del non però diciamo l'idea dell'avere invece una un delle modalità di raccogliere dati che vengono immediatamente utilizzati eh per come dire l'aggiustamento dei progetti succede rispetto alle metodologie di cui parlava Bruno rispetto a quello certo cioè è chiaro che noi in continuazione ci confrontiamo con gli stakeholder per l'aggiustamento dei progetti quello sì diverso è per quanto riguarda la raccolta dati più sistematici è che il momento che tu fai una server per capire se le famiglie hanno migliorato o meno il reddito eh eh diciamo i dati non sono facilmente utilizzabili per lo per l'operazione che tu stavi facendo a meno che tu questa server non la fai all'inizio nell'identificazione allora quello è un discorso ma in corso d'opera non è semplice allora quello che serve servirebbe sono degli strumenti che ci aiutino al knowledge sharing in maniera più rapida ci aiutino aiutino tutti poi perché non è un problema solo dell'osc no al knowledge sharing in maniera più rapida eh e per dare subito degli input a i manager dei progetti no per modificare le cose come si fa secondo me eh si devono uno si devono sensibilizzare e formare di più gli operatori dei progetti cioè la secondo me la competenza sul monitoraggio e la valutazione deve essere più diffusa nell'organizzazione quindi non deve essere soltanto di uno o due persone eccetera ma deve essere più diffusa eh nei negli spatriati nei locali quindi diciamo tante volte accediamo no accedono a delle informazioni di cui non capiscono nemmeno l'importanza no naturalmente perché non conoscono i processi quindi è molto importante la formazione e l'informazione eh e poi quello che dicevo prima migliorare il rapporto con anche professionisti che sappiano darci delle metodologie eh come dire anche scientifiche rapide perché esistono quindi si possono utilizzare sull'altro punto invece sono perfettamente d'accordo peraltro come ricorderai ricorderemo ricorderete insomma è una delle raccomandazioni della peer review no quella di del duemiladiciannove quella di superare ehm diciamo così la logica del bando e di andare verso una eh programmazione di diciamo di passare dal progetto al programma e di andare verso una pianificazione di più lungo periodo eh ci sarebbero anche i riferimenti legislativi ormai no eh sia a livello europeo sia a livello italiano con il codice del terzo settore eh credo che ci si tratti di capire diciamo con i decisori politici come fare delle sperimentazioni su questo perché chiaramente un sistema non cambia all'improvviso quindi si potrebbero secondo me tranquillamente fare delle sperimentazioni e capire se la famosa coprogrammazione e coprogettazione eh che non è affatto il saltare il bando nel senso cioè in realtà è molto rigorosa se poi uno la fa eh come dire come si dovrebbe fare ehm se appunto fare delle sperimentazioni su questo terreno credo che potrebbe essere molto interessante grazie Maura oh scusa Valeria e vedevo che ancora una volta Andrea Bina voleva fare una domanda se dura trenta secondi va bene Andrea puoi prendere la parola grazie buongiorno a tutti faccio proprio proprio essere sintetico sì eh volevo ringraziare Mauro per la presentazione molto molto interessante ehm che volevo soffermare su questo concetto di RBM e i suoi limiti e cosa significa cambiarsi ad cambiare adattarsi cambiare il log frame meno specifico nel corso d'opera no? Ehm alla fine per esempio nella mia organizzazione io lavoro con UNDP e dobbiamo sempre come riportare ai donors e ci centriamo molto su su adaptive management su cercare di ehm capire cosa sta funzionando cosa non sta funzionando come cosa dobbiamo cambiare però alla fine c'è questa sorta di dictatorship dei degli indicatori che rende un po' difficile e secondo me mancano i processi mancano come diceva Mauro magari gli strumenti che permettono di avere un approccio pratico all'adattamento di questo del log frame nel corso d'opera no? Ossia come come possiamo ehm ricreare è quello che dobbiamo fare questa domanda è credo ehm come possiamo ricreare gli indicatori come possiamo rivedere i risultati in una maniera pratica e che appunto rifletta di più quello che stiamo imparando durante l'implementazione del progetto e ci sono anche dei limiti a livello di processi dell'organizzazione ossia spesso ci sono dei board che deve riunirsi a provare i cambiamenti nel log frame ehm che sicuramente limitano eh per esempio nel nostro caso a volte magari ci rendiamo conto che un indicatore non è più non è più rilevante o magari potremmo concentrarci su altre cose però allo stesso tempo siamo obbligati cioè a livello di risorse a livello di processi eccetera sembra più più efficiente continuare cioè riconoscendo l'errore ma continuare a riportare su quell'indicatore no? Quando potremmo concentrare centra le risorse su altri su altri sforzi che hanno si sono dimostrati essere magari più più importanti più impactful più rilevanti. Grazie Andrea per questa tua testimonianza che ti porti che che arricchisce il dibattito naturalmente e dunque allora abbiamo adesso ascoltato due grandi organizzazioni entrambe queste esperienze pongono se vogliamo l'accento sulle pratiche no? Del del e sull'uso della valutazione sulla necessità di rafforzare la componente del learning quindi dell'apprendimento per per migliorare appunto l'utilità all'uso della valutazione. Mi sembra che entrambe le relazioni pongano anche ehm il problema mh mh dei tempi no? Della valutazione quindi una valutazione forse mid term che si collochi nel mezzo del 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 tempo del progetto può dare ehm vita a suggerimenti che possono essere utili poi per la programmazione successiva a differenza di una valutazione finale che come faceva notare Maura è troppo tardi insomma per ecco quindi questo ci restituisce il quadro di due organizzazioni che però sono se vogliamo un'eccellenza nel panorama delle osche italiane che hanno investito molto sul tema della valutazione e sulla riflessione eh diciamo delle delle pratiche della valutazione ma cosa succede invece mi viene da dire nella media nel 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 panorama più 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 generale delle osche italiane qual è qual è la situazione qual è anche il livello di riflessione sulla valutazione. Il nostro gruppo di ricerca del gruppo tematico valutare nella cooperazione ha condotto una survey per esplorare questo questo aspetto e ce ne restituisce i risultati preliminari eh quindi do alla parola do la parola al gruppo di ricerca in particolare a Maria Dentale li voglio nominare tutti Giuliana Parente, Lavinia Prataroti e Fiorenzo Polito che ci presenta una relazione dal titolo usi e pratiche della valutazione nelle osche italiane di cooperazione stato dell'arte e prospettive. A voi la parola. Benissimo mi faccio avanti io in in qualità di rappresentante per questa prima parte della della presentazione e allora io noi avremmo prese avremo un powerpoint quindi se siete tutti d'accordo lo condivido. Grazie lo abbiamo anche eccoci qua. Allora e appunto innanzitutto va bene ringrazio i due interventi che sono stati fatti fino adesso che appunto ci raccolgono ci danno la testimonianza di due organizzazioni diciamo più grandi della media italiana eh ma il nostro gruppo si è diciamo ha cercato di cogliere le impressioni eh diciamo e i pareri di della media cioè delle di organizzazioni anche anche più piccole. Ehm quindi in questo con questa presentazione venire ristoriamo appunto i ehm risultati preliminari. Innanzitutto due paroline su di me io sono Lavinia Plataroti sono consulente di eh di Mel Monitoring Evaluation and Learning in ambito di eh seed system di sistemi di semi e in generale di food security e eh insieme a Fiorenzo Polito che è dottorando Scienze Politiche e Sociali Maria Dentale e Giuliana Parente appunto abbiamo eh di fatto eh insomma eh dato il nostro contributo per questa per questa ehm eh studio. E in una brevissima anche introduzione su su che cosa vedremo in questa presentazione sostanzialmente noi eh parleremo di quali sono le motivazioni, la strategia, le risorse e la modalità di restituzione dei risultati eh legati alla pratica della valutazione nelle organizzazioni della società civile italiana eh e abbiamo chiesto di essere focalizzati su nel in un periodo degli ultimi tre anni. E un diciamo un piccolo passo indietro per capire da dove veniamo per quale motivo ci siamo affacciati a questa tematica chiaramente eh come è stato anche appunto citato eh anche da Maura insomma da altri dagli altri due eh persone che sono intervenute eh di valutazione si parla già agli anni alla fine degli anni novanta e duemila tuttavia però ehm la valutazione nella pratica è eh poco sistematica nella pratica delle organizzazioni eh italiane soprattutto nell'ambito non governativo quindi il nostro studio appunto aveva l'obiettivo di eh innanzitutto ehm aggiornare un po' eh i dati e mh le le conoscenze su uno studio basandosi anche anche su uno studio che è stato fatto a circa dieci anni di distanza quindi dieci anni prima eh e poi appunto eh chiaramente aumentare il dibattito e la riflessione sulla pratica proprio perché poi vedremo nelle conclusioni eh anche da questo studio risulta che eh di eh di valutazione si parla eh ma una riflessione che venga diciamo eh le cui lezioni vengono poi incorporate dalle organizzazioni ancora è carente. E quindi abbiamo brevissimamente eh parlato eh cioè abbiamo eh condotto uno studio con un uno strumento online eh Google Form quindi abbiamo creato un questionario abbiamo appunto eh pensato eh all'interno del gruppo con il rapporto di tutti gli elementi del gruppo chiaramente e lo abbiamo ehm e lo abbiamo condotto nel mese di luglio e abbiamo raggiunto sostanzialmente cinquantatré organizzazioni eh chiedendo appunto dicevo queste eh quattro cinque eh quattro diciamo ehm eh facendo domande su queste quattro eh macro aree e nella ehm nella 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 tramite questo eh con questionario abbiamo poi quindi diciamo canalizzato l'attenzione cioè abbiamo avuto i risultati da quarantaquattro organizzazioni che sono state eh di varia natura dalle più grandi o medio grandi quindi fino a cinquecentomila euro ma anche oltre eh e sono state diciamo il campione intervistato anche riguardato organizzazioni mh più diciamo datate e anche quelle più eh più eh recenti. Un dato che subito vi vi volevo proporre è che ehm tra le persone rispondenti cioè qui a risposto al questionario c'erano pochissime figure professionali figure che riguardavano eh specificatamente eh il monitoraggio e la valutazione. Per lo più hanno risposto persone che erano nella direzione o direzione responsabile di progetto. Quindi già questo ecco era una cosa che è un un elemento che insomma eh ci ci serviva ci sembrava importante far rivelare come eh non c'è ancora eh o nella possibilità o forse non c'è nel panorama una eh una volontà di professionalizzare la valutazione utilizzando delle figure che siano appunto formate per per questa eh per questo eh obiettivo. ehm allora dai risultati quindi che abbiamo che abbiamo avuto eh risulta che la la valutazione è sostanzialmente fatta come un adempimento per rispondere ad adempimento eh dei termini di un bando o di un TOR. Eh questo è stato la la grande la grande diciamo la maggioranza dei rispondenti hanno eh espresso questa eh questa preferenza. È stato anche eh indicato che era una prassi consolidata qualcuno ha detto che era sia una prassi consolidata sia una eh una diciamo un rispondere un eh a una richiesta del bando eh quello che eh diciamo noi noi cercheremo in futuro di eh di guardare con più precisione con un aspetto con delle pratiche più qualitative è appunto vedere come eh questi due eh questi due eh elementi la la mandatorialità e la il fatto di dichiararla come una prassi consolidata siano in effetti eh insomma come si muovano eh nel panorama delle delle ONG italiane. Ehm dicevamo che era eh dalle dallo studio è emerso che che la la valutazione risponde a esigenze di bando eh il quale però allo stesso modo non viene eh non viene non non dà indicazioni esaustive quindi risulta insufficiente secondo la eh maggioranza dei delle persone che hanno risposto delle organizzazioni eh e in alcuni casi non dava eh nessuna informazione quindi c'è comunque diciamo un gap che le organizzazioni eh ci ci stanno eh ci ci dicono che di di vedere tra quello che viene chiesto e quello che poi in qualche modo ci si aspetta da loro. Eh quando un'altra un altro elemento sempre riguardo ehm agli motivi e ai drivers diciamo del di perché si fa valutazione eh quando appunto il eh il il viene fatta in risposta ad una esigenza di accountability lo stakeholder più importante che viene eh indicato è il donatore anche il beneficiario ma molto più in diciamo in secondo piano sono partner e la società civile quindi la quindi questo aspetto di restituzione a un pubblico più ampio eh viene viene molto meno ehm lo studio eh diciamo che eh eh dallo studio emerge anche che sostanzialmente quindi il ehm le le organizzazioni hanno l'esigenza di convalidare il programma progetto quindi alla domanda quali sono i motivi gli obiettivi dell'organizzazione la maggioranza ha eh ha detto di volere eh innanzitutto eh avere eh verifica e apprendimento eh del pro del pro all'interno del del programma eh non sono o comunque sono solo secondariamente ehm eh diciamo indicati eh obiettivi che riguardano invece la diciamo la governance dell'organizzazione e eh obiettivi che riguardano magari invece l'organizzazione quindi quell'aspetto come appunto abbiamo sentito precedentemente del learning viene viene insomma a fatica emerge a fatica anche dal nostro studio ehm la preferenza eh diciamo per il tipo di di valutazioni fatte è una una preferenza che eh è molto netta su le valutazioni in itinere e finali non eh molto raramente o comunque con molta molta più fatica vengono fatte valutazioni di impatto ehm e eh e quasi diciamo eh nessuna di queste viene abbiamo un altissima percentuale di organizzazioni che eh fa che non fanno a in alcun modo valutazione ex ante quindi eh che mh permettetemi è anche il è in realtà un 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 problema metodologico perché si può fare valutazione finale ma se non si è affatto anche uno studio su uno scoping status vero un uno studio su che cosa c'era ehm precedentemente il progetto eh anche la eh le conclusioni di queste valutazioni possono essere eh insomma possono essere eh peccare un po' di robustezza ecco eh cedo adesso la parola al a Fiorenzo che vi delizierà con la seconda parte del dell'intervento. Grazie Lavinia per il passaggio di consegna. Cambi tu le slide quindi man mano che vado avanti. Grazie. Allora ehm studiando più approfonditamente o rivolgendo ehm agli enti rispondenti domande su approcci, metodi e strumenti abbiamo rilevato una netta prevalenza in termini di approcci eh di strumenti partecipativi o eh misti. Questa è stata la stragrande maggioranza delle eh risposte che abbiamo ricevuto. Mentre ehm chiedendo maggiori informazioni sui metodi adottati dalle ONG rispondenti eh abbiamo osservato una netta prevalenza per confronti prima dopo sugli indicatori di progetto eh arrivando fino al 76,9% come potete vedere. Eh sembra che ci sia una eh minore ricorrenza a metodologie potenzialmente più complesse. Questo è bene anche eh rispetto a quanto abbiamo detto finora come la valutazione controfattuale o eh valutazioni basate su teorie del cambiamento. Grazie. Eh parlando invece degli strumenti eh a disposizione delle OSC di eh cooperazione la scelta prevalente ricade su strumenti di tipo qualitativo. La metà dei rispondenti ha sostenuto di utilizzare questi strumenti e in alcuni casi strumenti misti anziché eh strumenti invece puramente quantitativi. E chiedendo invece alle eh OSC chi fosse eh l'attore ehm a svolgere fattivamente la valutazione all'interno eh delle proprie attività è emersa la figura di questo valutatore esterno indipendente che è stato appunto ehm il caso per il 50% delle delle risposte a scapito di altri eh professionisti interni oppure esterni eh all'associazione e questa scelta è stata motivata con una ehm necessità di maggiore garanzia di oggettività per la valutazione eh realizzare oppure perché espressa richiestamente dal bando. Parlando invece di risorse economiche e finanziarie ehm a oggi la valutazione sembra essere principalmente finanziata attraverso risorse estanziate direttamente dal donor, dall'ente finanziatore nel 61,4% dei casi eh mentre parlando invece delle aspettative eh future in termini di risorse umane ed economiche più delle metà rispondenti prevede un aumento tanto delle risorse economiche il 65,9% quanto del personale interno che si occupa di valutazione ehm il 62,1% quindi un incremento generale. E come dicevamo già prima parlavamo dell'utilizzo delle delle valutazioni e nell'86% dei casi rispondenti hanno indicato sempre o quasi sempre ehm che i risultati delle valutazioni sono stati utilizzati per modificare il progetto in corso quindi una valutazione in itinere in questo caso. Esatto. Eh parlando invece di utilizzi e diffusione delle delle valutazioni eh abbiamo ehm notato un orientamento opposto che riguarda la pubblicazione di queste valutazioni. Il 57% dei rispondenti infatti afferma di aver pubblicato spesso i risultati delle valutazioni mentre si registra anche la tendenza opposta per cui solo il 32% il 32% dei rispondenti rende solo raramente noti questi risultati. A prescindere dalla pubblicazione presso un pubblico più generalista i risultati nel 77% dei casi sono sempre o quasi sempre disseminati tra i diversi soggetti coinvolti nella valutazione in particolare i partner di progetto, i membri dell'ente stesso e i donatori. In termini di attori coinvolti nei processi di valutazione questi sono ovviamente vari. Sembra che ehm possiamo notare una tendenza a identificare alcuni interlocutori a cui ci si rivolge maggiormente in fase di valutazione, lo staff dell'ente stesso sia della sede centrale sia lo staff locale dell'organizzazione, i beneficiari diretti dei progetti e gli altri partner di progetto. Mentre rivestono un ruolo più ancillare, sembrerebbe, all'interno dei processi di valutazione altri soggetti come i donatori, i donatori stessi e i cosiddetti beneficiari indiretti. Infine ehm chiedendo ai rispondenti di indicare ehm lo scopo della della pubblicazione dei propri risultati abbiamo notato una netta tendenza alla necessità di diffondere risultati per motivi di rinnovazione di contazione o accountability verso donatori e partner e secondariamente per il miglioramento dell'efficacia degli interventi e in misura residuale la promozione della formazione interna del personale dell'ente. Un altro argomento che abbiamo visto anche oggi. Allora ehm traendo alcune considerazioni molto preliminari ma non per questo meno importanti da questo studio abbiamo potuto notare che le organizzazioni raggiunte considerano l'adultazione principalmente come un adempimento burocratico da realizzare in quanto tale è finalizzata a verificare la rispondenza tra obiettivi e risultati dei progetti programmi eh principalmente. Questo si lega bene alla finalità di accountability che risponde principalmente all'esigenza di compliance verso il donatore anziché altri tipi di accountability come quella verso i beneficiari degli interventi e infine abbiamo notato una sorta di amiguità perché pur destinando i risultati della valutazione a un pubblico ristretto fatto soprattutto di donatori le organizzazioni parlando di metodi dichiarano di utilizzare metodologie partecipative che valorizzano l'apporto di tutti gli stakeholder e questa è un'ambivalenza che varrà la pena sia discutere insieme a voi se avremo tempo ma richiederà anche un focus nel successivo approfondimento di questo studio. Questa era l'ultima slide quindi vi ringraziamo per l'attenzione e abbiamo preparato anche alcune domande che possono fornire materiali di discussione magari non adesso però nella sessione di Q&A più sì diteci voi Laura e Valeria ma le possiamo comunque mostrare se volete ve le propongo io per ora raccoglierei se possibile una domanda dal pubblico e poi in un secondo momento possiamo proporre questa sessione più tardi dopo la discussione del nostro discussione. Allora faccio stop sharing. Siamo a vostra disposizione. Grazie molte, grazie molte Lavinia, grazie molte Fiorenzo, grazie a tutto il gruppo che si è occupato di questa ricerca e per questa ricca presentazione il floor è aperto per le domande. Volevo chiedere una cosa rapida, sono Maura, intanto con molti complimenti è abbastanza impressionante in effetti, no nel senso tante cose, ecco tanto lavoro da fare, però mi è venuto in mente che non ricordo se l'avete detto, mi dovete scusare, l'universo dei 45 mi pare che avete avuto, chi sono? Sono quelli della legge 125, chi sono quelli, chi avete interpellato? Dunque sono un po' misti veramente perché chiaramente noi siamo partiti da una, banalmente se volete, anche da una lista che era appunto per, insomma, presso il ministero, disponibile presso il ministero, ma poi abbiamo anche utilizzato social media e altri canali informali come, social media come, voglio dire, Facebook, LinkedIn, ma anche altri canali informali come appunto semplicemente email, nostre email in list per raggiungere persone fuori anche da queste liste. Quindi anche per questo siamo riusciti, penso di poter dire, Fiorenzo Di, supportami, insomma, siamo riusciti ad coinvolgere veramente un panorama piuttosto ampio, seppur il campione è comunque limitato a 44, ma diciamo che l'abbiamo fatto nel mese di giugno, di luglio, quindi ci consideriamo abbastanza soddisfatti per il momento. E comunque se posso aggiungere, negli enti raggiunti la maggior parte erano tutte registrate nel elenco SC dell'AIDS, ne abbiamo raggiunte forse un 2-3 perché abbiamo posto questa domanda nella fase di compilazione per i dati anagrafici e solo 2-3 non erano iscritti, quindi maggior parte si appartengono a quella lista lì. Grazie Fiorenzo, invito tutti coloro che hanno in mente una domanda a conservarla per la fase finale, se c'è tempo. Da questa presentazione che io ho trovato molto interessante, anche messa in relazione con le prime due presentazioni, emerge un panorama piuttosto variegato, dove ci sono delle punte di eccellenza che ragionano sui temi della valutazione in termini di partecipazione, di bisogno di adattamento, di processi lungo periodo e di learning, quindi di esigenza di apprendimento dalla valutazione, poi c'è un panorama più vasto probabilmente di organizzazioni che considera la valutazione un adempimento richiesto dal donatore anziché una possibilità, se vogliamo, di miglioramento. E quindi venendo al donatore, ecco, venendo alla parte istituzionale, mi domando qual è l'esperienza della valutazione di un donatore, in questo caso abbiamo un rappresentante, il nostro Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, Francesco Capecchi, e come si rapporta questa esperienza alle suggestioni che vengono dal campo e che abbiamo ascoltato ora da APSI, da CISP e dal nostro gruppo di ricerca. A te la parola, Francesco. Grazie mille, grazie a tutti, grazie a voi che ci ospitate, Presidente. Una piccolissima premessa, io mi occuperò poi, se volete, rispondo anche a domande che vanno al di là della mia presentazione, che poi peraltro credo avete o mi farà piacere distribuire. Però volevo premettere che la valutazione di cui parlerò e che è oggetto della mia presentazione è una valutazione di impatto. Adesso e finora ho sentito molto parlare di valutazioni in itinere, valutazioni ex post, cioè che sono cose ovviamente assolutamente fondamentali, però delle quali non parlerò semplicemente perché sono, rientrano nelle competenze dell'Agenzia Italiana di Cooperazione. Poi se volete, torniamo comunque, insomma, perché poi obiettivo, per esempio, giusto per raccogliere alcune considerazioni che sono state fatte, l'obiettivo dell'Agenzia, ed è un obiettivo anche che all'Agenzia è stato dato dal Ministero degli Esteri e quello, per esempio, di fare un piano annuale di monitoraggio e valutazione, nel senso appunto auspicato da voi. Tra l'altro le risorse, poi sapete bene, che per il monitoraggio e la valutazione sono risorse che vengono utilizzate le risorse dei progetti, quindi ci sono fondi, ma è vero che non ci sono fondi ad hoc. Allora, poi ci ritorniamo, ma lo volevo premettere perché, diciamo, la cooperazione italiana, intesa con il Ministero degli Esteri, che è uno dei bracci della cooperazione, insieme a tutti voi, però che è il braccio che si occupa delle strategie e delle politiche, risponde volentieri a questioni sulla programmazione, processi di lungo periodo, learning, e tutto questo sarà oggetto anche di quello che io vorrei lasciare come apporto alla discussione comune. Però ecco, è un settore molto particolare quello che noi facciamo, cioè la valutazione di impatto. Ciò premesso, che cos'è? Vediamo se riesco a caricare la presentazione così ci assiste pure in qualche modo la grafica. Allora, 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 forse ce la facciamo. Allora, la salvo e me la... Allora, dovrei ritrovare. Eccoci qua. Vediamo se la carichiamo. Quindi, dicevo, che cos'è la... Condividi, eccoci qua. Dovreste vederlo. Lo vedete? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, a che cosa punta? Che cosa serve la valutazione? Mi permetto di insistere sul concetto di impatto. Alcune cose. La valutazione è uno strumento ovviamente molto importante per misurare l'efficacia della nostra azione di cooperazione. Garantisce, lo avete descritto, poi ci ritorniamo. Se volete, trasparenza, accountability, sono tutte cose, tra l'altro, che in qualche modo ho sentito. Rispetto, ovviamente, sia all'opinione pubblica, ai cittadini, ai lavori, a noi tutti, alle istituzioni, ovviamente, dei paesi donatori, anche questo era un punto che ho ascoltato con interesse, favorisce l'apprendimento delle buone pratiche, ovviamente trasferibili poi ad altre iniziative di cooperazione, migliora la qualità dei progetti, delle attività e orienta, poi ci ritorneremo anche su questo punto, orienta le strategie di cooperazione. Quindi, a proposito di lesson learned, anche questo è un concetto che mi pare sia emerso e sul quale anche io insisterei. Ci ritorno, vi do appuntamento a un paio di slide successive. Favorisce l'apprendimento di buone pratiche, ovviamente migliora la qualità dei progetti e dell'attività, l'abbiamo detto. Da che cosa deriva questa competenza? Come ci viene questa competenza? Ci viene la legge 125 che individua tra i compiti della DGCS. Questo articolo 20 è quello che definisce un po' le competenze residue, comunque, se vogliamo, della DGCS dopo la riforma. Cioè, in un sistema nuovo di cooperazione, la DGCS fa le strategie. Il legislatore riserva alla cooperazione italiana, intesa come Ministro degli Affari Esteri, quello di fare le strategie. Semplifico, tra le varie cose, questo articolo 20, la DGCS, la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo, coadiva nel Ministro degli Esteri in tutta una serie di azioni. A noi interessa la valutazione dell'impatto. Quello che mi interessa, quando si parla di valutazione, si intende, dicevo, non soltanto la verifica degli outcome, ma l'impatto e gli effetti delle iniziative. Su che cosa? Sul contesto sociale, ovviamente economico, ambientale e sugli indicatori di sviluppo. Ovviamente questo è quello che sottolineavo prima, cioè proprio l'accento sulla valutazione d'impatto è una delle novità della legge e quindi delle valutazioni della DGCS. Il monitoraggio, la valutazione delle singole iniziative, così come ne abbiamo parlato anche fino adesso, come dire, più in termini di efficacia, se volete semplifico, di ciclo del progetto, è demandata all'Agenzia Italiana di Cooperazione. Questo mi premeva di sottolinearlo. Ci sono due elementi importanti in questo articolo 1 della 125 che vedete sullo schermo. Secondo me almeno due. Uno è che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera, ecco perché dicevo le strategie le fa il Ministro degli Esteri. E l'altro è che non solo che è integrante, ma è qualificante, cioè la politica estera è qualificata dalla politica di sviluppo, dalle attività di cooperazione allo sviluppo. Questa non è una cosa banale, perché come dire, ci responsabilizza, e questo è banale dirlo, ma ci coinvolge anche in tutti quei processi che voi avete giustamente menzionato prima e al quale aggiungo ci responsabilizza anche nel momento in cui dobbiamo verificare qual è l'impatto di quello che facciamo tutti i giorni, perché non è un impatto qualsiasi, è un impatto che qualifica la nostra politica estera. Quindi, come dire, va preso, va strutturato. Ora, l'articolo 1 chiaramente va letto nel proprio contesto, come dicono i giuristi, un articolo va interpretato alla luce del contesto in cui è posto e le finalità, è coerente con le finalità della legge. Bene, quali sono le finalità della legge? Le leggiamo dalla legge. Le conoscete meglio di me. Il contesto, quindi, ci riconduce a che cosa? Ci riconduce a... Il legislatore non ha fatto altro che sintetizzare, come dire, cose già contenute negli SDGs, ci riconduce all'Ox e l'HAC e ci riconduce all'agenda 2030. Cosa deve fare, quindi, il valutatore, in questo caso esterno, che è, come dire, lo strumento di cui si avvale il Ministero degli Esteri anche per valutare se stesso, per valutare la qualità e, come dire, l'impatto per il presente, ma anche per il futuro, della propria attività. E lo riassunto, più o meno in questa slide, al valutatore, come dire, si chiede appunto di valutare l'impatto, cioè il contributo che viene dato verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e, ovviamente, gli effetti... Di solito si usa questa parola, appunto lo sapete meglio di me, effetti trasformativi, cioè qual è la capacità, diciamo, dell'intervento di trasformare la realtà in cui si concretizza, no? Chiediamo, inoltre, di indagare sui messi causa-effetto, di dare attenzione, ovviamente, nel valutare gli interventi ai gruppi più vulnerabili, sono tutte cose che sappiamo e sapete. Si chiede di fornire dati anche disaggregati in merito ai benefici determinati dagli interventi, valutati in relazione a coloro che ne sono i beneficiari. Si chiede di valutare il contributo degli interventi in termini di equità, intesa anche, anche questo lo sapete benissimo, un approccio più equo, no? Anche in termini di differenze di genere, etniche, eccetera. La progettazione dell'intervento fino all'attuazione delle politiche. Qual è l'inizio? Come si avvia tutta questa cosa che ho cercato di riassumere abbastanza rapidamente? Beh, c'è un piano, un programma triennale in cui, tra l'altro, c'è il coinvolgimento. Anche qui ne avete parlato. Mi sta a cuore, lo vorrei sottolineare. Questo è un approccio partecipativo in cui gli stakeholder vengono coinvolti fino all'inizio. Chi sono gli stakeholder? Beh, innanzitutto l'agenzia di cooperazione, non c'è dubbio, gli uffici competenti nostri, ma questo è banale dirlo. E poi, lo vedete qua, il comitato indipendente per le valutazioni. Ve lo metto qua. Comitato, scusate, consultivo sulla valutazione. In termini, tra l'altro, attiro la vostra attenzione sul fatto che, appunto, l'avete detto, elevato patrimonio di apprendimento, avete parlato di learning, di lesson learned. In questo quadro, che avete descritto molto più compiutamente di quello che sto facendo io, direi che il terzo, cioè il tecnico, cioè quello che valuta, è l'indipendente, voi stessi, come dire, è il terzo indipendente, come dire, che è funzionale, in qualche modo, alle decisioni politiche future e alle azioni, se mi consentite il termine qui, nel senso più alto, politiche, da intraprendere da parte del Ministero degli Esteri. Allora, questo programma, poi lo vediamo, diciamo, vado veloce su cose che chiaramente sono condivise, quindi non mi dilungo troppo, ma il programma triennale 22-24 è in corso di finalizzazione. Alcuni di voi lo sanno, perché hanno partecipato, come dire, alla sua stesura. In realtà la stesura, la responsabilità della stesura, è in capo al soggetto politico, cioè quello che ha la responsabilità, come dire, della politica estera, e quindi della cooperazione e dello sviluppo. Però c'è una cosa che mi interessa molto, cioè il comitato di valutazione, che per la prima volta è stato chiamato a esprimersi in merito al nostro programma. Voi tutti, il Presidente Tomei lo sa, lo saluto e lo ringrazio, tra l'altro per gli spunti interessantissimi che ci ha fatto avere, le osservazioni, e come dire, gli spunti, le riflessioni e possibili migliorie. Le valutazioni sono state, quindi, selezionate tra proposte che nascono da un raccordo, diciamo, con l'AICS, con gli uffici territoriali, ma che coinvolgono, come dicevo, anche il comitato consultivo sulla valutazione. Come le abbiamo scelte? Un'altra cosa, che sono state incluse, tra l'altro, iniziative finanziate sia sul canale bilaterale che multilaterale, sottolineo l'aspetto multibilaterale, perché non sempre è stato così, diciamo, è anche questa una piccola novità di quest'anno. Iniziative singole, gruppi di iniziative, ovviamente, per quanto, in questo caso, debbano essere omogenee o per paese, per area geografica, per settore, strumento di intervento. Qual è, come dire, quali sono i criteri, cioè, quali sono i criteri che ci siamo dati prima per poter redigere un programma che avesse un, così, che si inserisse nello spirito di quello che ci chiede né più né meno il legislatore con quegli articoli che vi ho citato ad inizio, ad inizio del mio intervento. Criteri guida, sono un po', se vedete, sono un po' i, mi permetto di chiamarli fari che poi l'Ocse, no, ci dà a livello internazionale, non è che ci siamo inventati niente, ci siamo, come dire, posti in linea con quello che fanno gli altri, gli altri donatori. le valutazioni sono state individuate in base a dei criteri, l'alto potenziale di apprendimento, mi sembra che anche voi questo lo abbiate citato spesso, il carattere strategico prioritario dell'iniziativa, ovviamente in funzione del, dei, dei paesi partner, continuità e coerenza dell'azione, della cooperazione italiana nei paesi partner, anche questo è un, è un aspetto importante perché ovviamente come dire, la cooperazione lo ribadisco, è parte integrante e qualificante della politica estera, quindi la coerenza va verificata. Dimensioni dell'impegno finanziario, questo non è sempre vero, diciamo che, è vero se si tendono poi ad accorpare per paese, per settore tematiche di intervento, magari le iniziative, quindi, diciamo, è un criterio che ci siamo dati quest'anno, ma non è un criterio così, come dire, rigido come altri. Carattere innovativo dell'iniziativa assolutamente sì, e la capacità di replicarsi, di trasformare l'ambiente in cui viene realizzato e anche di replicarsi in contesti analoghi, lo abbiamo reputato molto importante. Io vi farei vedere proprio a un livello molto operativo e come dire, tra detti ai lavori, come è nato, cioè, diciamo, com'è uno schema di programma delle valutazioni, di proposte e di valutazioni. Ci abbiamo fatto circolare, come dire, ai nostri uffici, all'Aix, questi file da compilare. Il programma è stato elaborato, quindi, sulla base delle proposte, dicevo prima, che gli uffici territoriali della DGCS, in accordo con l'Aix, tenuto conto, ovviamente, di tutto quello che dicevamo prima, di tutti i criteri che abbiamo detto, hanno compilato questa scheda con queste informazioni, quindi, definizioni di indicatori, baseline, problematiche di sicurezza del paese, c'è un po' di tutto, insomma, poi se volete ci ritorniamo, ma insomma, ve le volevo solo far vedere. È una piattaforma, diciamo, per costruire, come dire, il programma. e vi passerei, appunto, a un esempio concreto, cioè, vi ho fatto vedere la parte ancora non compilata, vi faccio vedere più o meno che cosa, quali saranno alcune valutazioni previste nel nuovo programma, non tanto per andare nel merito, ma per cercare di far vedere che cosa è accaduto, diciamo, nei vari momenti dell'iter formativo di questo programma di valutazione triennale. E allora, nella scheda relativa a ogni valutazione, ovviamente lo vedete, compare questa sezione priorità strategica, vengono sintetizzate le motivazioni dell'inclusione del programma nel programma di valutazione. Si vuole sottolineare, quindi, ancora una volta, quello che ho detto più volte, cioè la finalità strategica. Questa cosa della Tunisia, io ve la volevo menzionare, ma semplicemente per far capire che per noi era importante, soprattutto in un momento di pandemia, ci può servire appunto come lesson learned e anche pro futuro, per oggi, ma anche per il futuro, avere, misurare l'impatto di un'iniziativa che punta ad ampliare l'accesso al credito, soprattutto a favorire, come dire, la microimprenditoria, la piccola e microimprenditoria. Quindi abbiamo pensato che tutto questo ne facesse, come dire, un progetto strategico meritevole di essere valutato ai fini poi della successiva, come dire, del miglioramento anche, perché no, della nostra strategia futura. Allora, idem, Scusa, arrivo alle conclusioni, Etiopia, caffè, vabbè, anche questo, vi faccio vedere rapidissimamente Burkina Faso, lavoro giovanile, Iraq, c'è stato, appunto, anche qui, persone vulnerabili, sanitarie, eccetera. Le valutazioni, forse, magari, un attimo, quali sono le raccomandazioni che abbiamo avuto? Sono quelle che ci avete dato voi e ci avete ripetuto anche oggi. Ce ne sono alcune interessanti, approccio sul sud. Ce n'è una interessante, forse, che gioca un po' sul discorso tra un po' ownership e, cioè, ovviamente l'ownership è un, per noi, un assoluto caposaldo, però, come dire, c'è anche una questione, secondo me, importante, sulle valutazioni più recenti, ve la, anche in modo un po', come dire, aspettate se ve la trovo, definire la metodologia di formazione del percorso. Quindi, da un lato, ci sono alcune osservazioni, perché sono tutte contestualizzate, no? In cui si dice, attenzione che l'ownership va promossa ancora di più. A volte ci sono raccomandazioni in cui si dice, beh, ma utilizzate un'unità esecutiva esterna, AX, ONG, perché è una garanzia, cioè, non va contro l'ownership, tutt'altro, ma è una garanzia di attuazione, gestione corretta, della progettualità, soprattutto in paesi dove quel governo magari non ha potere di gestire in prima persona, l'iniziativa di cooperazione. Ve la metto là, poi queste sono tutte cose che vi resteranno, quindi un'ultimissima cosa, e chiudo, management responsa, anche questa è una cosa che ci teniamo, alla quale teniamo moltissimo, noi trasferiamo tutte le raccomandazioni che otteniamo ad AX, si instaura, come dire, una dialettica, ma positiva, nel senso che è un confronto con AX, vedete esempi di fish che ci siamo scambiati, per cui poi queste raccomandazioni, un po' come succede con l'Ox, vengono, come dire, recepite, commentate, eccetera, eccetera. Finisco, sfide future, beh, molte le avete menzionate voi, mi pare che l'opportunità che fornisce questo gruppo tematico stia già là dentro a quelle che avevo sottolineato io, ampliare, sempre di più, come dire, consolidare la cultura della valutazione, da questo punto di vista, noi siamo abbastanza giovani come Italia e come cooperazione italiana a fare una valutazione di impatto, intendo, ampliare l'oggetto delle valutazioni, assicurare la credibilità e l'affidabilità delle valutazioni, ampliare il numero di valutatori. Quindi io chiuderei con un appello, il numero dei valutatori, noi abbiamo un elenco online disponibile, dal quale poi, che poi utilizziamo come banca dati per inviti, cioè per fare una procedura ad inviti, nel senso che solitamente sono sotto soglia, se facciamo così come il nostro codice dei contratti ci consente una procedura aperta, ovviamente, in caso di importi oltre 150.000 euro, vabbè, può partecipare chiunque, altrimenti, come dire, chiediamo che voi manifestiate l'interesse. Esiste un albo dei valutatori, un albo nostro, diciamo, alla quale poi vi inviterei a, perché molti di voi possono partecipare anche come persone fisiche, esperti, professori universitari, non devono partecipare soltanto persone giuridiche, quindi per noi è importante una banca dati di persone che poi vengono invitati alla gara e poi partecipano ovviamente a una competizione che può essere, come dire, ad invito aperta secondo le modalità che consente la legge italiana, ma quello che ci interessa è che partecipino più persone possibili. Quindi, grazie, grazie, mi sono dilungato un po', ma rispondo alle vostre domande e vi ringrazio. Grazie a Francesco Capecchi, direttore dell'Ufficio Terzo e la DGCS, per avere innanzitutto accettato il nostro invito, per averci presentato l'esperienza della DGCS ricca, interessante, per aver condiviso con noi delle anteprime, se vogliamo, della prossima programmazione e anche e soprattutto per questo appello che non cadrà nel vuoto di partecipare attivamente ai lavori della valutazione della DGCS e passo la parola al nostro discussant Massimo Tommasori che si occupa di valutazione da alcuni decenni sia, è stato anche all'interno della DGCS, all'interno dell'Ox, dell'UNESCO e ora, diciamo, all'interno dell'Institute for Democracy and Electoral Assistance. per cui cedo la parola a Massimo Tommasoli per la sua discussione. Grazie mille Valeria, grazie a tutti i relatori, spero che mi sentiate, cercherò di essere telegrafico anche se ci sono tantissimi spunti come potete immaginare. io ho buttato giù direi sei grandi tematiche che emergono dai vari interventi che sono comuni per un verso o per un altro a seconda dei punti di vista alle varie relazioni che ho anche letto con molto interesse. Direi che il primo punto è quello dell'apprendimento istituzionale al quale legherei anche la tematica della flessibilità e dell'adattamento che sarà trattata da molti e quello dell'ownership e indipendenza che pure emerge soprattutto negli interventi delle due organizzazioni che hanno presentato il loro fare valutazione. Poi ci sono stati anche come questi si modulano con la retroazione sulle iniziative e il legame tra teoria e pratica che è un altro tema molto importante e infine direi il livello della valutazione dal progetto al programma alle politiche. Mi sembra che la maggior parte degli interventi si siano concentrati sulla questione delle valutazioni di progetti o interventi si è parlato un po' di programma ma mi sembra che il grande assente in questa fase sia ancora una valutazione delle politiche delle policies su cui probabilmente sarà opportuno investire in futuro. Andiamo per ordine. Per quanto riguarda l'apprendimento istituzionale mi sembra interessantissima l'esperienza di Azi che ha stabilito addirittura un dipartimento con questo nome con questo mandato che è quello dell'apprendimento del learning anche il CISP ha sottolineato nell'ambito del rapporto tra monitoraggio e valutazione l'importanza di rafforzare l'elemento debole di questa catena che è quello dell'apprendimento e mi chiedo perché ci sia una difficoltà di apprendimento istituzionale e anche questo ultimo intervento del consigliere Francesco Capecchi mette in evidenza secondo me l'importanza dell'apprendimento istituzionale in un'istituzione che ha da poco in fondo operato una riforma stabilendo una linea di demarcazione tra momento di orientamento strategico e momento di attuazione perché non è poi così netta tra le valutazioni di impatto e le altre valutazioni che sono comunque necessarie in quanto forniscono il materiale di base su cui si può costruire una valutazione di impatto per cluster di programmi o di progetti quindi è molto importante intendere anche lì fino a che punto ci sia una capacità di apprendimento istituzionale sia nell'AICS che nel MAICI rispetto alla funzione di valutazione io penso che dovremmo fare tre considerazioni rispetto all'apprendimento istituzionale per come emergono anche dagli interventi ascoltati il primo è che è necessaria una certa un certo gradiente un certo grado di riflessività che deve essere incorporato nelle valutazioni è stato detto in effetti nell'intervento della riflessività cosa intendo per riflessività la valutazione da conto del cambiamento della pratica del cambiamento per usare l'espressione usata dall'Arsi nel contesto di intervento però chi opera il cambiamento e quindi anche le organizzazioni di cooperazione allo sviluppo è esso stesso un attore che è soggetto a cambiamento e quindi la dimensione dell'apprendimento è una dimensione importante che misura il livello di cambiamento che deriva dall'aver appreso dall'aver compreso le pratiche o le lezioni dell'esperienza e trasforma queste lezioni queste pratiche in anche in direi nuove modalità di intervento nuove procedure adeguamento delle procedure adattamento delle procedure qui me li faccio al discorso che ha fatto il CISPA a proposito della flessibilità e dell'adattamento in particolare secondo aspetto che mi sembra importante individuare per l'apprendimento istituzionale è che l'accountability non va intesa principalmente verso uno dei vari attori coinvolti e mi sembra evidente anche dallo studio dall'indagine condotta sulle 45 organizzazioni che quello che ascoltiamo è che l'accountability il rendere conto è inteso direi quasi letteralmente come una funzione di rendicontazione e questo scusatemi se lo dico avendo lavorato al ministero va presa in senso letterale cioè rendere i conti diciamo così delle attività svolte verso il donatore e questo secondo me è anche un risultato di una cultura amministrativa che all'interno in questo caso del donatore cioè direi il complesso ministero dei fari esteri e agenzia italiana di cooperazione e sviluppo è una cultura amministrativa che nonostante il tentativo di modernizzazione di adattamento che è anche stato in conseguenza delle successive revisioni dei fari fatte in ambito OX e DAC continua a essere una cultura che è concentrata sulla adeguatezza dell'atto amministrativo rispetto alle norme per l'autorizzazione di spesa invece che una un orientamento ai risultati che troppo spesso resta direi un'intenzione più che una pratica della cultura dell'amministrazione e della cooperazione allo sviluppo parlavo di flessibilità e di adattamento il problema qui secondo me è molto quello che ha indicato Andrea nel suo intervento dall'UNDP Andrea Abina tutte le rigidità che sono introdotte nel sistema vengono aggirate dagli attori della cooperazione allo sviluppo che sono consapevoli del fatto che ad esempio degli indicatori pensati a tavolino in fase di disegno diventano assolutamente inadeguati per cogliere il cambiamento sul terreno secondo le indicazioni che ci sono state date dall'Afsi e dal CISP nelle loro attività sul terreno ma che cosa fanno questi attori non cambiano quindi non c'è un un apprendimento istituzionale non cambiano gli indicatori non cambiano anche il disegno se si rendono conto che il progetto è stato disegnato in maniera inadeguata rispetto al contesto ma continuano a rendicontare o a riportare a coloro che controllano la spesa nel caso dell'ONDP la governance è una governance intergovernativa ma nel caso della cooperazione italiana esiste ugualmente un meccanismo di controllo della spesa abbastanza rigido rispetto a questi indicatori anche se sono superati questa è una vera e propria tattica di aggiramento che probabilmente non si traduce nel realizzare il progetto così come era stato disegnato ma nel rappresentare nella realizzazione rende conto che bisogna fare qualcos'altro lo si fa con una forma di informalità un livello di informalità che probabilmente giustifica rispetto al fine del conseguimento degli obiettivi e quello che io mi chiedo è quali sono gli incentivi che esistono per la flessibilità per l'adattamento all'interno delle istituzioni fino in che misura come viene premiata questa capacità di adattamento se si fa una richiesta di variazione qui Mauro ha usato un'espressione che viene proprio dalla normativa sul linguaggio del codice degli appalti bene se uno deve fare una variazione in corso d'opera e questa variazione blocca l'approvazione per mesi quando va bene allora è preferibile non fare la proposta di variazione mandare avanti due realtà parallele che sono quella conforme al disegno iniziale quella reale diciamo così e cercare poi di aggiustare il tutto in sede di chiusura del progetto quindi quali sono gli incentivi per l'apprendimento se in realtà la cultura amministrativa premia la rigidità per quanto riguarda l'ownership e l'indipendenza non è che ci siano pochi problemi anche a questo riguardo facciamo due esempi qui c'è un problema secondo me io lo chiamerei di topografia della valutazione cioè la prossimità dei valutatori rispetto a chi gestisce i progetti e e qui c'è un paradosso più c'è prossimità quindi maggiore c'è ownership da parte di chi realizza il progetto però maggiore il rischio di dipendenza quindi c'è c'è un rischio di maggiore indipendenza all'interno della cooperazione con la legge sulla la nuova legge 125 questo problema dell'ownership e dell'indipendenza è stato risolto tracciando una linea di marcazione tra un livello più strategico con la valutazione di impatto e tutto il resto della valutazione che è di responsabilità diciamo all'interno dell'attuazione del ciclo di progetti però è possibile mantenere salvaguardare l'indipendenza con nel contempo questa capacità di ownership da parte dei manager che realizzano l'intervento questo è il grosso paradosso e ritengo che qui ci siano delle indicazioni diverse noi abbiamo ascoltato l'intervento dell'Afsi che cerca di internalizzare alcuni aspetti di questa indipendenza però mantenendo una struttura di prossimità alla gestione dei progetti sarebbe interessante verificare anche magari con una valutazione da parte dello stesso Afsi sull'attuazione e sull'impiego di questa modalità in quale misura questa sia efficace se ci sono dei cambiamenti che hanno cercato di apportare dopo l'apertura di questa nuova stagione diciamo con questa organizzazione funzionale i tempi della valutazione e la questione della retroazione e anche qui rischiamo se non allineiamo i tempi della valutazione con delle modalità efficaci di retroazione rischiamo di fare una sorta di archeologia dei progetti di sviluppo attraverso la valutazione invece di fornire delle indicazioni che possono essere utili per chi i progetti li realizza siano questi appunto esperti degli enti realizzatori siano questi funzionari locali o altri attori sul tema del legame tra teoria e pratica ho accolto l'ironia direi quasi dell'intervento dell'Apsi che parla della pratica del cambiamento quasi in contraposizione alla teoria del cambiamento che è in questo momento la teoria prevalente all'interno del mondo della valutazione e contrapporre la teoria e la pratica è un esercizio molto interessante io ho trovato molto interessante anche il riferimento alle metodologie qualitative addirittura a queste metodologie etnografiche l'oralità per la raccolta delle informazioni delle storie delle narrazioni sull'attuazione dei progetti mi sembra interessantissima anche per via del mio background che è di carattere antropologico sarei molto molto interessato a capire come queste questi dati diciamo così vengono condivisi vengono resi comparabili vengono anche eventualmente in un quadro che riesca a generalizzare da particolari contesti di progetto o di area però qui credo che il dilemma principale una sfida che non è solo ovviamente per l'afsi e che emerge anche dagli altri interventi che ho ascoltato è quella della diciamo quella che a cui molti hanno fatto riferimento quella della base di evidence della base fattuale sulla quale si possono trarre delle conclusioni oggettive cioè per quanto sia importante catturare attraverso anche pratiche partecipative del punto di vista di differenti soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti non possiamo dimenticare che questi punti di vista sono punti di vista soggettivi e quindi sarà opportuno attuare delle triangolazioni di dati per oggettivizzare per oggettivizzare questi dati in una maniera che non sarà quella ottusa di indicatori quantitativi che si risultano presto superati come ci diceva prima il collega dell'UNDT ma che comunque abbiano una loro valenza oggettiva una loro comparabilità una loro solidità e robustezza quindi questa è un po' la sfida concludo sull'ultimo punto che l'eccessivo secondo me interesse l'eccessiva attenzione alla valutazione di progetto o al meglio alla valutazione a livello di programmi cioè di aggregazione di cluster di progetti quando è possibile in vari paesi meno spesso di quanto dovrebbe essere e più spesso semmai programmi all'interno dello stesso paese e il grosso bonus che abbiamo all'interno della cooperazione italiana che è la valutazione delle politiche e che mi sembra corrisponda all'obiettivo del programma di valutazione che ci ha mostrato riassunto il consigliere Capecchi e questo è estremamente importante perché è sul piano della valutazione delle politiche che si può cogliere gli elementi si possono cogliere gli elementi di continuità e discontinuità la riproposizione degli stessi errori che sono l'indice di un mancato apprendimento istituzionale che sono l'indice di una distanza tra la teoria della cooperazione allo sviluppo e le concrete pratiche di intervento che sono la misura della distanza tra le nostre prescrizioni politiche specie quando la cooperazione allo sviluppo è parte integrante e qualificante della politica estera e la realtà la realtà dei paesi e delle persone e delle comunità ai quali tutta questa iniziativa tutto questo mercato tutto questo mondo e il sistema della cooperazione si rivolge grazie grazie